Partiamo dalla base del naso, il punto 287, saliamo lungo tutto il naso, strecciamo le sopracciglia, giriamo intorno e usciamo. Battiamo poi lentamente lungo tutto il percorso. Di nuovo, ripeto che non è un semplice massaggio e quindi diamo energia al nostro corpo. Bravissimi. Battiamo bene, questo rischiava la vista, dà energia ai nostri organi sessuali, combatte le rinesie e tutte le allergie. Benissimo, siamo arrivati all'ultimo massaggio.